ciao ragazzi oggi ho deciso di dare i numeri no tranquilli non sono improvvisamente impazzito vedete questo non è un semplice calice di vino ma un piccolo capolavoro che viene realizzato grazie alla sapienza di chi lavora le terre dell'asti spumante e del moscato d'asti di ocg e con la stessa sapienza di un tempo oggi preparerò il tonno di coniglio all'astigiana lo abbinerò a un gioiello al quale lavorano da quasi 90 anni 1800 produttori viticoli 4000 famiglie e 216 realtà vitivinicole su tutto il territorio l'asti spumante di ocg metodo champenoise numeri importanti che firmano una storia unica quella che si trova in ogni calice di questo vino davvero fantastico vi invito a scoprirla grazie a tutti